900 mila nuovi occupati, in un paese che non offre lavoro, in un paese che non ha prospettive, in questa manovra c'è zero investimenti, zero crescita, come fai a volgere la testa dall'altra parte rispetto alla misura che ha generato 900 mila occupati, nel settore diretto e indiretto, come fai a dire che vuoi togliere il regno di cittadinanza, che la gente deve andare a trovarsi un lavoro se poi il lavoro lo distruggi? Io do atto alle forze di maggioranza che in questo momento c'è Forza Italia che sta presentando con noi emendamenti per facilitare la cessione e la circolazione. Anche le forze di maggioranza noi riconosciamo quando c'è disponibilità. Si deve levare un grido, Presidente Meloni, divanti sempre della tua coerenza, bene, ti valuteremo su questa la tua coerenza, visto che pochi mesi fa dall'opposizione è condiviso questa battaglia e allora adesso devi dimostrare la tua coerenza. Inchiuderemo il governo e tutte le forze anche di maggioranza a convergere sulle soluzioni che abbiamo già presentato in manovra di bilancio, le andiamo a discutere. Porterò il vostro grido di risperazione. Mi hanno consegnato un volume alto così con 20.000 firme per favorire questo dialogo e dando anche un contributo andando in piazza per evitare che gli animi si possano agitare e infiammare. Siamo disperati, la gente avanza i soldi, non dormiamo più. Facciamolo con forza. Se vi prego. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.